Ciao a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Simone Borgaro Siamo qui a finire il nuovo Akuchwa E questa volta la sfida sarà piuttosto dura Guardate che bestia che ci sta E qui oggi consiste nel battere Akuchwa Ma via per l'amore Qui ci sono tutti per noi E' un super primo sugo Francesco Faraoni Ciao a tutti, buonasera a tutti Sono un po' da la vita di tutti voi Però bene, no? E' un po' di più da più Quindi ragazzi, vieni Facciamo battere subito Mattia Faraoni Che sarà il primo Un applauso in un po' di più Uuuuuh Uuuuh 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 984 E' un po' di più Ci sono benvenuti Dai, 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 senza ricorsa, certo? Vai, vai! Eh, ma bella ragazzi! Oh! 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 Eh, lo rifaccio anch'io, ne si abbagliare! È il video è finito, adesso io finché non faccio anch'io. Go! Oh! 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 Ach! Prima però rigaccio anch'io! Dai, dai, sai che c'è un nuovo nuovo смотр empez! Ah, ma adesso non hai a cassa. Passa, pass il pulsino, il film? Dai, aspettalo! O che stai nemmo... Tutto la mia cosa significa che abbiamo sempre le dismesse, ci sono punte a daranempa le dicono se tu mi scuori, ti facciate sparire, e cagliate un figlio proprio. Ma che succede tu mi scuori? Abbiamo finito con tutto il fatto. Dai eh! Dai eh! Prova a vedere la ziufa! Madonna mia! Aspettato! Aspettato! Grazie a te che ho avuto! Attenzione! Attenzione! Non voglio fare la ziufa ancora! Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Attenzione! Un applauso ragazzi! E' un partito! E' un po' essere! E' un po' essere! Un applauso a tutti! Dai eh! Dai eh! Dai eh! Questo è il messaggio! Qui ragazzi! Il papà! Diva su! Mamma mia ragazzi! Eccolo qui! 8000 grazie! Io ne ho 57! E spugge e togliamo! Daniega! Bello! Venga sotto! Non lo vuole prendere in faccia adesso! Quasi 600 ragazzi! Alle ragioni! Alle ragioni di 56 anni! Siamo giunti a un momento molto cruciale! Ogni pronostico qui! Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta! Va bene! Le aspettative non sono altre! Nonostante sei una bestia! Perché ovviamente! Sanno tutti da potenza delle ultime cose! Però qui! 120 mili! Una bestia! Oh! Questo mi è piaciuto! Questo mi è piaciuto ragazzi! Attenzione! 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 Salsa! Salsa! Ehi! Ehi! Non ti ridete! Siamo lontani! In più da mattia a Paragonico! Siamo ancora in locale! Vada! Ragazzi! Non più ce l'ho fatto di non è! Vada! Come in me! Vai! Seconda! Oh! 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 Vada! 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 Voglio dire qualcosa prima! Vada! 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 Attenzione! Ho visto una ragazza! Niente male! Secondo me è buono! Ma non credo che arrivi! Questo è quello che è! Come lo levo! Non credo che arrivi! Non credo che arrivi! No! No! Lo faccio con la spada! Lo faccio con la spada! Se non lo vale! Non lo faccio con la spada! Vada! 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 Oh! Un po' cacciotto devo dire! Ma sicuramente! Com'è stato? Mani! Bravo! Bravo! Ma finitelo! No! 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 Guarda che braccio, che scello! FRAIER! Non mi è piaciuto! Mi è piaciuto! Vedete che qui, quanto sai! Perché non si sa! Era un bel cazzotto! Era un bel cazzotto! Oh 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 oh! Eh non arriva mai! Sono l'anid! Faccio come la città! FRAIER! Ooooooooooh! FRAIER! Non era male! È buono! Mi è piaciuto eh! Vediamo un attimo qui cosa dicono! Eh... È un buon potente! È un buon potente! È anche Iguardo! FRAIER! 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 Ha vinto il capo alla prima dipresa! Ha vinto il capo alla prima dipresa proprio oggi! Che cosa cosa insegniamo? POMPA! Si vede che è una terra! E' una terra! E' una terra! E' un'altra! Quanto pesi? 60 kg! Brava! Bravo! 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 Bcusca sotto! Mattia sta sperando per la mia voce! Ma... Sì! Ma... Mattia quella prima volta sperando tipo inizio il valde meno! Quanto pesi? 100 kg! 600 kg! Ragazzi devo rimanare... Vesco pista! Vesco pista! Vesco pista! Vesco pista! Vesco pista! Siamo qui ragazzi, ho un pugile che io conosco molto bene perché ho fatto sparring, menina e fote. Eccolo, vediamo qui la situazione, non arriverà in regola, lo vedo da qui però a buon punteggio, buon punteggio, 200 punti si è passato. E adesso per entrare un ospite per me troppo speciale, Francesco Faraone. Il fratello, questo è tosta eh, sarà dura. Attenzione, attenzione, sale, sale, sale. Non credo che però arrivi in altri maragoni, non ci arriva ragazzi, siamo lontani. Ragazzi, non sto scherzando, Filippo ci ha fatto molte volte sparring, ogni volta con una cazza come una di testa, quindi io prevedo un cazzotto duro. Questa è buona ragazzi. Vediamo un attimino, a me mi sembra un bel cazzotto, un bel cazzotto mi sembra, sta salendo con una certa velocità, sta salendo con una certa velocità, ma no. Si ferma qui, si ferma troppo presto. Aspetta, lasciamo il ritorno su di da iva, iva un succo. Stavo dicendo ad amiche a partire, basta con i giochi, dai facciamo il serio. Basta con i giochi, facciamo i seri. E' stupessa, e' stupessa, e' stupessa, e' stupessa, i montiù compiati a voi. Oh, maio, è la guerra! Oh, maio, 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 maio. Maio, 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 maio. Io per me ne ho più una coppia dei luci, per fortuna non è bisogno, ma anche, te ne ho una cazzotto non faccia. Provo due tentativi. Prima mi scalpo, prima mi scalpo. Ragazzi miei vediamo l'altro. Questo è meglio di prima, ma vediamo attenzione. Oh, vuole quanto sale? No, non ce l'ha fatto. Oh, 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 oh. Vediamo quello che succede, vediamo quello che succede. Allora, pucci non la succeda, ma qualche problema. Ma puci, potete ancora arregare la tega. Dai, dai, vittoria, lascia, mi parcio, ho il risultato. Oh, mamma mia che c'entra mia. Quanto ho fatto qua? 990 Non lo faccio slow Ma vieni di Francesco Paragonia al volo Super 990 Super 990 che ho un po' provato, quindi rimarrà 800 Che bomba! Che bomba regà! Che bomba! Che bomba! Guarda che l'insulto dite dire Guarda che cosa facciamo! Francesco Paragonia, circa 7 850 Comunque è di più di 40 Esatto, esatto Un applauso per favore, un applauso Io direi che per questo video è tutto Grazie per il supporto I soldi erano chi te batteva, che ha battuto nessuno Per me è Travis Marco 50 Dopo devo fare un caffè Iscrivetevi al canale Che succede a chi non si iscrive al canale? Se vi metto una settimana, poi Awww 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 Grazie Awww Awww